Un punto di ascolto per chi ha problemi con Equitalia, l'ho aperto a Sarzana e il Movimento 5 Stelle per evitare che i cittadini e imprenditori si trovino da soli ad affrontare il peso di una cartella esattoriale insostenibile. Non sarà l'unico, annunciano i consiglieri regionali pentastellati. Noi non ci vogliamo sostituire allo Stato, ma viste le lacune dello Stato qualcuno deve dare dei supporti ai cittadini vessati da Equitalia. Nel caso specifico di ieri, da quanto si è appreso, qua ci sono anche degli errori di forma degli studi di settore, perché se negli ultimi 5 anni la crisi continua a galloppare e una persona che è improprio non riesce più ad avere determinate entrate, gli studi di settore vanno rivisti perché una persona non deve arrivare a questi punti. Allora, a Sarzana abbiamo avuto una situazione idilliaca perché oltre agli attivisti, al consigliere comunale e regionale avevamo anche gli esperti in materia, cioè un commercialista e un avvocato. Quindi il perché è questo. Adesso stiamo lavorando comunque per aprire altri punti, per sopperire a tutte le richieste che arrivano perché la Liguria comunque purtroppo ha tanta gente che è interessata da queste problematiche.